Eccoci ragazzi ritornati con un nuovo episodio del chi vuole essere milionario sto contattando diversi influencer e youtuber che mi avete consigliato quindi abbiate pazienza ragazzi lasciate un mi piace iscrivetevi al canale se siete nuovi attivate la campanellina così sapete sempre quando esce un nuovo video e che dire commentate fatemi sapere naturalmente se avete azzeccato le risposte e a quale avete perso e che dire partiamo con il video Buona visione Bene ragazzi siamo tornati ufficialmente con un nuovo episodio del chi vuole essere milionario oggi abbiamo due ospiti pazzeschi direttamente da torino hanno fatto la storia di youtube e io in primis sono stato loro fan ragazzi ecco yakamet ciao 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 Sono stato queste parole al passato mi fanno male ogni volta sono stato è una triste verità però ragazzi Eh ma sai cos'è il fatto quando diventi collega comunque vedi tutto da un'altra prospettiva assolutamente giusta oggi ragazzi cosa andiamo a fare la nostra solita carrellata di 15 domande immagino che voi il gioco lo conosciate però vi devo andare a spiegare quali sono i 4 aiuti così magari sapete già eventualmente quali possono esservi d'aiuto Allora abbiamo il 50 e 50 classico che conoscete la chiamata a casa quindi potete scegliere uno youtuber di vostro gradimento da andare a chiamare e chiedere poi abbiamo lo switch della domanda cioè se naturalmente una domanda non vi piace potete cambiarla con un'altra di pari difficoltà E il quarto ragazzi che è il mio aiuto quindi sarebbe l'aiuto di jerry trattato in aiuto di dove quindi avete una grossa mano da parte del conduttore che dire partiamo siamo pronti avete delle Matt stavo pensando perché allora la chiamata a casa non fossimo insieme io chiamerei lui e lui chiamerebbe me ma io e te siamo qua che cazzo chiamiamo? Eh io chiamo Brogno posso? Ah voi potete chiamare chi volete No guarda che quello ti fa perdere Madonna mia Eh però ci sta passa da lui da antisportivo fa una figuraccia eh Ma lo sa tutta Italia che antisportivo Ok eh vabbè non lo so chi chiamiamo Non ci servirà non ci servirà perché tanto perderemo prima non ti preoccupi Ah ok Vi vedo vi vedo abbastanza positivi Prima domanda ragazzi le prime come sapete sono quelle più facili quindi partiamo velocissimi Ecco già In quale squadra fece il suo esordio Antonio Cassano? Allora le risposte sono Lecce, Roma, Samp e Bari Vabbè qua metto e tu Penso che sia Bari e andiamo avanti L'accendiamo con l'Apam Accendiamo ragazzi Anche perché Anche perché A noi interisti ce lo ricordiamo bene Ce lo ricordiamo perché faceva il gol pazzesco Bravi ragazzi giusto giusto Seconda domanda Andiamo rapidissimi In quale di questi stadi gioca Il Genoa? Gli stadi sono Dall'Ara Ferraris Sant'Elia O Bentegodi Direi che per esclusione Ferraris Ferraris Accendiamo Accendiamo il Ferraris Il buon Matt si fida Ferraris Ragazzi La vostra risposta è di finire L'accendiamo? L'accendiamo È giusto Bravi Mi aspettavo Marassi ma in realtà si chiama Ferraris Anch'io sono rimasto sconvolto perché lo chiamo sempre Marassi È un po' come San Siro e Meazza diciamo È bravo esatto La doppia Doppia Dato ci sono stato in questo stadio e ho visto l'autogol di Ranocchi e abbiamo perso la partita È avuto una bella esperienza insomma Eh sì Molto Allora terza domanda Qual era il numero di maglia di Zidane quando giocava nel Real Madrid? Allora I numeri sono 5 7 10 O 21 Minchia Io c'ho un indecito tra il 5 e il 21 In realtà mi ricordavo il 7 Però giustamente il 7 era Beckham Eh Che fatti Allora io c'ho questo ricordo del 5 Io mi fido Mi fido di Non è fiducia È un ricordo annebbiato Il 21 chi cazzo poteva essere? Allora io mi ricordo che c'era il 7 Beckham Il 10 Ronaldo Non è che era 9 Ronaldo Ah no aspetta C'era anche Raul Forse la 7 era Raul Il 21 era Beckham La 5 Accendiamola Ma non voglio dare l'aiuto adesso È la terza Eh ma se fai 50-50 Tanto ti rimangono quelle su cui è il dubbio Eh Vabbè Dai accendi il 5 La rischiamo Ma se non andiamo a casa Cosa dobbiamo fare? Allora Il 21 era il suo numero alla Juventus E il 5 era quello a Real Bravi Sì Bravolo Siete buttati bene Vi siete buttati Bravolo bravo Proseguiamo In quale squadra Chiuse la carriera A proposito di David Beckham Proprio lui Stavamo parlando di questo giocatore E in quale squadra ha chiuso la sua carriera Beh grazie Paris Saint Germain Real Madrid Manchester United O Milan Paris Saint Germain No aspetta Sai che forse è il Milan O Paris Sei sicuro Paris Paris Saint Germain La partita da Dio l'ha fatta lì Ma il Paris Sei sicuro? Viene dopo il Milan? Sì Sì Sono sicuro Va bene Vai Io mi fido Mi fido Ragazzi È la vostra risposta definitiva Sì Sì Si accendiamo La accendiamo Sì Allora Matt ha avuto Un ricordo del Galaxy Sì Quello proprio giocato Giocato bene Dopo aver fatto No perché dopo aver fatto Tutta la sua carriera europea Eccetera È andato al Galaxy Poi però ha fatto Un ritorno Anche 10 partite Al PSG E quindi è chiuso Al PSG Bravi Bravo Bravo Io ho i ricordi che si accavallano No ma hai ragione Sai perché Matt? Perché lui ha fatto Galaxy Poi praticamente Durante la pausa Che col Galaxy Non giocava Era andato al Milan Poi era tornato al Galaxy E poi ha voluto chiudere La carriera in Europa E io mi ricordo Sto abbraccio Tra Ibrahimovic e Beckham Quando ha fatto la partita da Dio Lui è uscito con le lacrime Sì al parco dei principi C'è stato saluto Poi al finale Eh ma ragazzi Quando inizia ad essere vecchietto Vedrete Che la memoria Inizierà A essere difficoltà Guarda che qua L'unico giovane è Dai E te siamo Allora Proseguiamo Questa è la prima domanda Che vi Diciamo proietta Già al primo traguardo Quindi Ok Di che nazionalità È Kurusevski Giocatore del Parma Che come sapete Andrà poi alla Juventus Ok Ucraino Svedese Polacco O croato Svedese Non ho detto Perché è svedese Provate ad andare Anche per esclusioni Qual è che sicuramente Escludereste di questo Il nome È chiaramente Un nome dell'est Però c'è il trick Alla Ibrahimovic Che in realtà Lui è È svedese Non mi ricordo Se è di mamma O di padre svedese Però ha la nazionalità svedese Io mi ricordo Sta roba strana Che non ci ho creduto Quando era svedese Ed ero andato a guardare Perché in realtà Tanti Tanti dell'est Come Ibrahimovic Che è tipo Adesso mi colo serbo Sì sì Serbo e svedese Esatto Si sono trasferiti Poi a vivere in Svezia Quindi tanti Sono andati da Io dico Svezia Sono d'accordo Sono d'accordo E tra l'altro Nel Parma C'è un altro Che ha un nome Che è tutto Tranne che è svedese Che anche lui è svedese Che è Gagliolo Mi pare Bravo E gioca anche nazionale E gioca anche nazionale Va bene Cosa dite Accendiamo Accendiamo Ragazzi Bravi entrambi Vi siete ricordati bene E avete evitato Il trabocchetto Per il cognome Bravi ragazzi Perfetto Quindi ho già primo Traguardo Siamo già a un terzo Del percorso Zero aiuti usati Come vi ho detto La prima domanda Era molto easy Quindi Adesso Io voglio sapere una cosa Brogna A che livello è arrivato È il buon Brogna Addirittura ha vinto Tutto? Insieme a Sikwolf Sì ma perché aveva Sikwolf Da solo Tizia dove andava Ha usato Google Sono stati molto bravi Sono stati molto bravi Ok Sesta domanda Adesso incominciano ragazzi A diventare Da più complicate Però Non è impossibile Nel 2006 Quindi famosissimo mondiale Nella quale abbiamo Trionfato Quale squadra Passò il girone Proprio insieme all'Italia Oddio Quindi girone a 4 L'Italia passò E anche naturalmente Un'altra squadra Le squadre sono Stati Uniti Ghana Repubblica Ceca O Ucraina Provate a pensare Non me lo ricordo mai Nella vita Ah l'Ucraina L'abbiamo beccata poi No l'Ucraina Non c'era neanche Nel girone Forse avevamo Lì Ghana Forse avevamo Quindi ora abbiamo Escusa No no Matt avevamo Ghana Stati Uniti E Repubblica Ceca Ah perfetto Allora io mi ricordo Che l'ultima giornata Abbiamo toccato Quella Repubblica Ceca L'abbiamo battuta E forse l'abbiamo Esclusa con quella Sconfitta Naturalmente vi confermo Che le tre Sulle quali avete il dubbio Sono state tutte Nel girone Quindi Non lo so Forse Allora Con gli Stati Uniti Ci abbiamo pareggiato Quindi sono gli unici Che sono riusciti A scroccare un punto All'Italia Ecco adesso sta Nelle Le partite tra di loro Quali sono stati I risultati Allora No io più che altro Stavo cercando di immaginare Gli ottavi di finale Una seconda Quindi ha peccato Una forte Non mi ricordo Assolutamente Io per me Stati Uniti Ma sinceramente Non ne sono certo Matt Usiamo un aiuto Per me è Gana Quindi figurati Che aiuto abbiamo Abbiamo 50-50 Mi sa che non ci conviene Perché è classico Che ci rimangono Con le due Potete chiamare a casa E chiedere Chi è passato il turno Insieme all'Italia Nel 2006 Switchare la domanda Con un'altra Di pari difficoltà Oppure Il mio aiuto Quindi sarò io Che vi darò Un aiuto Importante Usiamo il suo aiuto Che dici Sì Vai Usiamo il tuo aiuto Allora Il mio aiuto Ragazzi Visto che siamo Comunque Alle prime domande È un aiuto Che vi darà Molto Molto Aiuto Allora Nonostante Abbiamo battuto Per un risultato Molto importante Questa squadra È africana Basta Aveva ragione Te l'ho detto È passato È meno male Che abbiamo usato l'aiuto Va bene Gana Ci andiamo Gana No Gana Giusto Bravi ragazzi Ha avuto Il flash Avevo avuto Il flash giusto Però giustamente Luca Adice Ci abbiamo pareggiato Comunque un punto Già con noi L'avevano fatto Io mi ricordo Che era 3-0 Col Gana 1-1 con gli Stati Uniti Con l'autogol di Zaccardo E abbiamo vinto 1-1 Con la Repubblica Cerca Va bene Però ci sta Dai Ancora avete Tre aiuti E siamo Quasi a metà strada Ascolta ma l'aiuto da casa Chiamo Marco Di andare su Google Al volo E via Io chiamerei anche mio fratello Il problema è che mio fratello Non mi risponde al telefono Allora Proseguiamo Settima domanda In quale di queste squadre Ha militato Allegri Da calciatore Chi? Allegri Allegri Ok Da calciatore Quindi Ok Le squadre sono Juventus Napoli Roma O Milan In una di queste squadre Perché non c'è il Pescara? Porco 2 Ho detto Metto quelle un po' più famose Per non mettere in confusione Invece mi chiedete di mettere Ah Juve, Roma, Milan E Napoli Juve, Roma e Milan Queste sono le quattro squadre Quali Direste no Proprio a priori Ma Metto nella Roma non altro No nella Roma Non credo proprio Ecco ricordiamo che Potrei sbagliarmi Alla grandissima Farmi una figura di merda Ma non ricordo questa cosa di Allegri Cioè Penso che la saprei No Per me o è Juve o è Milan Magari la Juve ha fatto Che cazzo ne so Le giovanili E Poi è andato via Ma giocato si intende Che ha esordito in Serie A No qua parliamo di squadre In generale Non giovanili No no Non giovanili Ah proprio Ah quindi c'è Cioè la Juve Sinceramente ho un vago ricordo Di lui Che da allenatore alla Juve Aveva anche giocato alla Juve Però non ho la certezza Juve Roma e Napoli L'escluderei anch'io Juve e Milan Almente Sarei tentato di dire Milan Però Tu ti ricordi che Quando allenavo al Milan Ho detto Allegri Eh no Non me lo ricordo Per quello Però c'è un vago ricordo Che sta cosa è successa Alla Juve Però è molto vago Cioè nel senso potrebbe Quanti allenatori sono andati a allenare una squadra in cui hanno giocato Potrei confondermi Chiamiamo Brogna 50-50 Chiamata Brogna e poi Siamo a metà strada È la settima Siamo a sette Siamo a metà strada Abbiamo usato due aiuti Ne abbiamo due per l'altra strada Chiamiamo Brogna Chiamiamo Brogna Va bene Allora mettetelo in viva voce Poi quando termina la domanda Adesso conviene che decidete anche come formularla Per poi cercarla evidentemente su Google Ah ok E quando finite di leggerla Io parto con i 30 secondi Juve, Milan, Napoli e Roma sono È Roma Ma guarda che personaggio Niente Non ci rispondo Chiamassi Wolf Chiamassi Wolf Vabbè ma non caga nessuno E poi quando mi chiedono le cose Devo mandargliele Non risponde nessuno Nessuno ci vuole bene Solo Doesn't Matter può rispondere L'unico che non sa niente di calcio Non sa neanche come è fatta la palla Sa neanche a scrivere Allegri lui E' quello il problema Provo Daniele dai A meno che rimaniamo in tema YouTuber Oh Dani sa usare Google Sei davanti a un PC Scrivi Allegri Massimiliano Allegri Dimmi la carriera Sì sì Quando mi fa partire il tempo Ciao Lucone Oh Dani Stiamo facendo il milionario Ci serve un aiuto C'hai Google davanti Sì Oh non sbagliarmi eh Dav Dammi il via Quando leggi la domanda E finisce partono i 30 secondi Quindi vai tranquillo Ah ok Allora Dani Ci sei? Sì Sì Allora praticamente Allegri Massimiliano Allegri L'allenatore che ha allenato Il Milan Nella Juve In che squadra Ha giocato? Juve Milan Roma o Napoli? Dove ha giocato Mi devi dire? Eh Quanto ti fa? Muoviti E' già partito 30 secondi Condi Sì 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 Grazie a tutti